Allora un ringraziamento innanzitutto all'organizzazione e un saluto a tutti i presenti tra cui ci sono tantissime facce amiche. Quando ho preparato questa presentazione ero veramente molto molto indeciso perché vedendo il programma che ovviamente è ricco di interventi di grande spessore e di grande qualità mi chiedevo effettivamente cosa potessi aggiungere a quello che avevano detto i miei predecessori. Infatti seguendo gli interventi di prima, seguendo prima quello di Andrea poi quello di Gina che tra l'altro sono tutte persone con cui ci siamo spesso scambiati opinioni, pareri tecnici eccetera ritengo che abbiamo detto veramente moltissimo per cui vorrei sfruttare i miei 15 minuti che scorrono qua davanti a me impetosamente per focalizzare l'attenzione su alcuni punti che forse possono aprire degli spunti di riflessione proprio tra noi gestori perché forse uno dei grandi vantaggi in materiali che ci ha dato la possibilità di questi finanziamenti che sono venuti dai ministeri oltre a tutti gli interventi infrastrutturali tecnologici che stanno migliorando notevolmente le performance tutti noi gestori è quello di aver gioco forza creato una rete relazionale che secondo me ha migliorato veramente il livello di qualità del servizio che noi gestori offriamo alla cittadinanza. Qua mi riferisco in particolare ad ACUP e a Gina Troiano con cui noi abbiamo condiviso fin dalle origini un percorso con cui portare a termine questa missione che avevamo definito missione impossibile del React EU spesso ci siamo confrontati con Gori con Salerno quindi è stato davvero l'occasione per stringere ancora di più i nostri rapporti. Qui ho rappresentato inizialmente per chi non ci dovesse conoscere ABC Napoli è l'azienda del comune di Napoli che gestisce il servizio idrico integrato nella città di Napoli. I numeri sono riportati qui inutili che li scorro chiaramente sono numeri più ridotti rispetto a quelli che ci ha fatto vedere ad esempio Gori che gestisce un territorio molto più ampio ma come dicono sempre tutti i miei colleghi dico ma Napoli è Napoli e quello che diremo nel corso di questa presentazione rende oggettiva questa frase Napoli è Napoli quindi farò vedere ad Andrea che pure noi abbiamo un primato diciamo lui giustamente ha citato due primati di Gori come i primi al PON, al React EU e al PNRR ora anche noi abbiamo un piccolo primato. Qua ho raffigurato giusto alcune slide rappresentative di alcuni manufatti fognari come sapete ABC gestisce la fogna del comune di Napoli non dal 1885 ma solo dal 2019 e queste sono alcune immagini che fanno capire effettivamente la complessità delle infrastrutture con cui noi ci siamo trovati ad avere a che fare da qualche anno. Sono strutture veramente significative per dimensioni e molto affascinanti soprattutto per noi ingegneri hydraulici e questa sicuramente è la sfida che ci vedrà impegnati nei prossimi anni. Oggi però ci concentriamo su quello che è il progetto che abbiamo portato avanti nell'ambito del React EU quindi del PON infrastrutture e reti su cui come dicevo prima è inutile che mi vado a soffermare sui contenuti perché è molto simile a quelli che hanno illustrato i colleghi che mi hanno preceduto ma focalizzerò alcuni punti di attenzione che forse possono essere utili per noi gestori a condividere un'esperienza. Il PON a noi è diviso in quattro operazioni, l'operazione 1 è quella proprio più tradizionale di tutte c'è la sostituzione di 24 chilometri di condotta che sono pochissimi rispetto ai 200 e più che ha detto Andrea ma vi assicuro che è un'impresa veramente ardua nei tempi che abbiamo a disposizione. L'installazione di 30.000 smart meters, l'operazione 3 che è il cuore dell'ingegneria che in parte replica tutto quello che ci ha fatto vedere Gina di HQP e l'operazione 4 strettamente connessa all'operazione 3 che rappresenta l'acquisto delle attrezzature che ci consentono di mettere in campo l'operazione 3. Per quanto riguarda gli obiettivi inutili che mi soffermo sono quelli che già abbiamo detto in precedenza, la distribuzione geografica dei nostri interventi copre la maggior parte dei quartieri e delle aree della città di Napoli. Vedete che è esclusa la zona orientale ma semplicemente perché il progetto che noi abbiamo definito ABC for Innovation tra le sue origini in realtà da circa 15 anni, 20 anni fa quando abbiamo iniziato un percorso con l'università Federico II col dipartimento di idraulica dove abbiamo cominciato a sperimentare i primi distretti e tutto questo l'abbiamo fatto nella zona orientale. Quindi poi siamo andati avanti sugli altri quartieri ed è per questo che non vedete indicata la zona orientale. Sull'operazione 1 quella più caratteristica di posa condotte non c'è veramente nulla da dire se non che ci siamo trovati molto bene a inserire nei capitolati di gara l'obbligo da parte dell'operatore economico che partecipava alla gara di utilizzare apparecchiature di ultima generazione evolute per la ricerca dei sottoservizi e per la ricerca delle perdite. Quindi l'attività di posa in campo è stata preceduta da un'attività a tappeto su tutte le strade oggetto del progetto con un georadar di ultima generazione e diciamo in molti casi ci ha dato risultati molto confortanti aiutandoci molto a individuare la posizione più ottimale in qualche caso ovviamente nemmeno il georadar ha potuto fare nulla come vediamo in queste slide. I problemi che abbiamo riscontrato sono quelli noti a tutti oltre ai sottoservizi e qua ritorniamo sempre sulla stessa criticità che le amministrazioni comunali dovrebbero effettivamente avere un sistema GIS integrato di tutti i sottoservizi che semplificherebbe la vita a tutti noi e poi ci sta il grandissimo punto interrogativo dei ritrovamenti archeologici ritrovamenti archeologici che noi questo si riferisce a una foto a via Giustiniano dove abbiamo trovato una necropoli prima una strada e poi tombe che cominciava prima una poi due poi tre poi per fortuna abbiamo cambiato tracciato e questa problematica è utile perché ci fa riflettere su quello che diceva anche Andrea che è la collaborazione con gli enti se qua non avessimo avuto la collaborazione della sovrintendenza archeologica probabilmente questo cantiere si sarebbe dovuto fermare non sarebbe più andato avanti. Abbiamo trovato una funzionaria molto disponibile e competente che ci ha consentito di andare avanti nel tempo quindi spunto di riflessione GIS integrato di tutti i sottoservizi che ogni amministrazione comunale dovrebbe avere e grande collaborazione da parte di tutte le amministrazioni. L'operazione 2 è quella degli smart meter e va benissimo in cascata con la presentazione precedente noi stiamo installando noi abbiamo fatto già nel 2010 un primo distretto pilota a Soccavo dove avevamo installato 5.000 contatori in telelettura all'epoca la gara se la giudicò Aitron e ci siamo trovati veramente molto bene qui abbiamo esteso la sperimentazione a 30.000 misuratori chiaramente sono passati molto anni per cui i contatori hanno fatto i passi da gigante la quale indecisione era se precludere la partecipazione solo ai fornitori che fornivano contatori con il corpo metallico o estenderlo anche al corpo plastico perché sentivamo sempre di questi contatori col corpo plastico che esplodevano quindi eravamo un po' preoccupati ma i tempi ristretti non ci hanno consentito di mettere troppi paletti alla fine la gara se le ha giudicata un raggruppamento in cui il produttore di il fornitore dei contatori e idea e devo dire la verità sono contatori ultrasoni che conoscete tutti i gestori quello che volevo portare a fattore comune è che su 30.000 contatori ad oggi ne abbiamo installati circa 20.000 i casi di allagamento delle abitazioni sono veramente numericamente poco significativi e non sono mai legati al contatore in sé ma alla posa del contatore quindi all'inizio abbiamo avuto dei problemi nel serraggio dei raccordi tra il contatore plastico e la tubazione privata ma poi una volta che gli operatori avevano presso dimestichezza con questo tipo di contatori non si è più verificato il problema altra considerazione che invece voglio mettere a fattore comune il progetto prevede l'installazione di valvole a monti a valle purtroppo in campo nonostante gli ingombri sono stati studiati in maniera tale che al posto dell'ingombro attuale che prevedeva contatore 140 e valvola di valle noi riuscivamo a mettere contatore con passo 110 quindi valvola di monte e valvola di valle purtroppo in campo ci si è resi conto che quando cominci a mettere le mani sull'impianto privato purtroppo vai incontro a tutta una serie di problematiche che ti levano tantissimo tempo per cui in molti casi quando l'impianto domestico è molto fatiscente la scelta è stata quella di non andare a inserire anche la valvola a monte o di non sostituire la valvola a valle purtroppo i tempi impongono anche queste scelte e abbiamo dovuto fare una scelta di questo tipo 5 minuti questo è il portale webgest che ci rassume tutti i risultati ma già sono stati fatti vedere da era quindi non mi soffermo l'operazione tre il cuore del problema e voglio far vedere solo un attimo qua abbiamo fatti rilievi della rete secondaria ecco ci tenevo solo a mostrare il video che però purtroppo non parte un attimo solo eccolo qui ecco il video praticamente rappresenta una rilievo in 3d del nostro serbatoio di capodimonte il serbatoio di capodimonte è uno dei serbatoi storici della città di napoli realizzato nel 1885 interamente nell'ammasso tu faccio e grazie al raggruppamento almaviva che si avvalsa a sua volta di wii come soggetto operante in campo siamo riusciti ad ottenere una ricostruzione 3d veramente incredibile che è quella che vedete con un dettaglio incredibile di ogni particolare che non abbiamo fatto ovviamente per un fine estetico ma questo ci consentirà di studiare tutti quelli che sono il quadro fessurativo di tutte le zone e confrontandolo nel tempo con le restituzioni successive uno studio precisissimo dell'evoluzione del quadro fessurativo ma soprattutto completamente georeferenziato nell'ammasso tu faccio in cui è inserito quindi anche qua lo spunto di riflessione rilievo 3d secondo me particolarmente significativo per quei manufatti molto significativi che si trovano all'interno di ammassi tu faccio o comunque in sottosuolo dove è molto importante capire il posizionamento preciso dell'oggetto interrato all'interno del contesto l'intervento che sto facendo in particolare si sofferma c'ho tre minuti ma ce la faccio sul modello idraulico e il modello idraulico è quello che ci ha consentito di avere questo primato che non ci siamo dati noi ma il soggetto che ci ha fatto la modellazione idraulica sempre attraverso il gruppo almaviva e che è 2f in quanto hanno detto che il nostro modello fatto da 86.500 nodi avete visto gli altri numeri rappresenta sicuramente il modello più complesso con cui hanno mai avuto a che fare abbiamo messo in campo una campagna di monitoraggio significativa che è stata condotta da bm tecnologie in maniera egregia e abbiamo chiaramente avuto la possibilità di rilevare per tre mesi tutti i parametri idraulici nel sistema per la calibrazione dell'intervento e alla fine siamo riusciti ad avere questo modello idraulico che come dicevo non per estensione ma per complessità idraulico orografica ci consente di dire non è un vanto ma è un problema per noi però siamo riusciti a fare il modello della città di Napoli che rappresenta un davvero un obiettivo molto ambizioso per la calibrazione si potevano scegliere diversi weekend 2f ha scelto nostro malgrado e poi vi dico perché il weekend dell'1 e 2 aprile come vedete tutti i weekend sono caratterizzati dalla particolarità di essere weekend ma in particolare il 2 aprile c'aveva un'ulteriore particolarità se vedete quel picco purtroppo è quello relativo alla partita del 2 aprile Napoli Milan per cui perché è stato scelto questo che poi è andata male perciò dico purtroppo perché è stato scelto questo giorno e questa in particolare questa singolarità perché il modello è riuscito a simulare sulla base delle misure in campo di pressione e portata anche questi picchi di portata che ci sono stati in questa fascia oraria qua sono riportate una serie di parametri idraulici nella totale della rete cittadina ma quello che mi piace far vedere è proprio come siamo riusciti ad ottenere e qua io quando ho visto per la prima volta ho detto vabbè c'è l'imbroglio invece giuro che non c'è nessun imbroglio questo è il confronto tra le portate simulate e le portate osservate e siamo riusciti ad avere un range di tollerabilità del 10% che per un modello di questa complessità secondo me è un risultato veramente molto significativo qua sono riportati alcuni grafici la stessa un po meno preciso è quello delle pressioni ma lo stiamo migliorando con tutta una serie di attività che stiamo conducendo in campo e chiaramente questo modello idraulico sarà quello che integrato come hanno egregiamente detto i miei relatori predecessori nel GIS e nella piattaforma integrata che stiamo sviluppando con Almaviva ci consentirà di avere un controllo in tempo reale del comportamento della rete e simulare tutti i possibili scenari a partire da un'ipotesi di malovra io penso di aver detto tutto l'ultima cosa abbiamo accompagnato c'è ancora 37 secondi questo modello idraulico con una ricerca perdite satellitare sulla quale anche qui avevamo fortissimi dubbi e qui volevo mettere a fattor comune un risultato importante che stiamo avendo la ricerca perdite satellitare che è quella basata sul contenuto di acqua ci ha classificato le perdite in funzione del grado di gravità quindi alto medio alto eccetera sulle parti medio alto e alto siamo andati in campo con i noise logger e stiamo avendo una rispondenza rispetto ai risultati del satellitare del 70 per cento che secondo me per una ricerca perdite tipo satellitare è un risultato molto molto incoraggiante io ho detto tutto l'ultima cosa Sara me la consente vabbè questo è il punto dove stiamo arrivando cioè dividere la città in 56 distretti l'ultima slide per me è fondamentale per mettere in campo tutto quello che stiamo facendo l'hanno detto anche i miei predecessori mostrando l'organizzazione tutto questo si basa sul grandissimo impegno delle risorse nostre aziendale di tutti gli operatori che stanno collaborando con noi quindi un grazie è doveroso qua vedete un'immagine che i nostri colleghi della comunicazione hanno fatto l'anno scorso e che è particolarmente significativa perché sono le fotografie di tutti i nostri dipendenti perché tutti dal primo all'ultimo stanno contribuendo a questo miglioramento del servizio al cittadino vi ringrazio e ce l'ho fatto